Stiamo giocando a Monopoli e quindi siamo partiti da Roma in treno stamattina prestissimo Poi siamo arrivati a Genova, Prignole, abbiamo preso un altro treno, siamo arrivati a Albenka Non è Instagram, ma puoi andare a più Vai, quindi Ma te mi fai giochi? Allora, quindi, partendo da, siamo arrivati a Albenka Albenka ci ha detto, non c'è problemi C'è problema C'è il pulmino per andare a Stratremo, vai tranquillo Quillo Non è vero Siamo scesi, abbiamo preso il pulman, ma poi scenderemo di nuovo Albenka non è Albenka ha preso il pulmino Albenka abbiamo preso il pulman Albenka abbiamo preso il pulman Albenka scendiamo No, è piano, ma non è corretto Scendiamo Riprendiamo il treno E andiamo a Stratremo Ok Quando arriviamo? Boh